Care amiche e cari amici di Barba Sofia, oggi vi presento un autore francese, un autore spiritualista che però intraprende la strada dell'esistenzialismo, uno spiritualista con profonde venature di esistenzialismo e oggi vi presenterò pertanto la filosofia, il pensiero di Gabriel Marcel, nato nel 1889 e morto nel 1973. Come avevo preannunciato quest'estate affronterò con voi e per voi tutta una serie di autori che di solito non inserisco nel programma del triennio liceale, sono moltissimi gli autori in modo partito del Novecento che per tanti motivi un insegnante non riesce a trattare e a sviluppare nel corso dell'ultimo anno della terza, liceo classico, della quinta, liceo scientifico, liceo scienza applicata liceo linguistico. Pertanto quest'estate ogni settimana affronterò un autore appunto diverso da quelli tendenzialmente affrontati nel programma annuale. La scorsa settimana ho affrontato Spengler con il tramonto dell'Occidente e questa settimana appunto affronteremo il pensiero di Gabriele Marcel, spiritualista ed esistenzialista francese, autore di molte opere, le più significative direi sono due, la prima del 1935 si intitola Essere e avere e la seconda del 1951 Il mistero dell'essere. Come vi dicevo un attimo fa lo spiritualismo francese che ha come grande padre nobile Riberson negli anni poi 30, 20, 30 comincia a aprirsi alle tematiche, al clima, alle prospettive dell'esistenzialismo e in modo particolare in Gabriele Marcel vi è proprio questa venatura esistenzialista che in parte riprende i temi di Essere e Tempo di Heidegger e in parte anticipa o contamina la speculazione poi di Jean-Paul Sartre. Qual è il punto di partenza di Marcel? Il punto di partenza di Marcel è appunto la ricerca intorno all'essere, ma l'indagine, la speculazione intorno all'essere è un'indagine che non rappresenta per il filosofo francese un problema, bensì un mistero. Mi spiego meglio. Un problema, ci dice Marcel, è qualcosa di risolvibile, è qualcosa di quantificabile, è qualcosa di trasformabile in un oggetto, dunque quantificabile e oggettificabile, magari attraverso una calcolatrice lo si può appunto risolvere, lo si può appunto poi sviluppare. Dunque un problema è qualcosa che è perfettamente oggettivabile e dunque è scomponibile in dati, è traducibile in dati, dati che noi possiamo possedere, che possiamo derivare, dunque una realtà appunto della quantità. Il problema è quantificabile e pertanto è risolvibile. L'essere, dice Marcel, non rientra dentro la prospettiva del problema, non rientra nei problemi, non è un problema, in quanto non è affrontabile in maniera oggettiva, non è oggettivabile il tema dell'essere, non è quantificabile, non è trasformabile in dati. Dunque più che un problema l'essere rappresenta un mistero. Che cos'è il mistero, ci dice? Il mistero è qualcosa, aperte virgolette, in cui mi trovo coinvolto e che pertanto impedisce il mistero di mantenere una chiara distinzione tra il soggetto e l'oggetto. È proprio il caso dell'essere. Per quanto riguarda l'essere, l'indagine dell'essere non è un qualcosa di distinguibile, di quantificabile, di separabile all'interno dinamica soggetto-oggetto, perché all'interno dell'essere il soggetto, il soggetto che si pone la domanda sull'essere è lo stesso essere. Dunque non c'è distinzione. Sarà invece questo il punto di partenza proprio di Heidegger, che secondo cui l'indagine esistenzialista si fonda proprio sul fatto che ad interrogarsi sull'essere e l'esserci dell'uomo e dunque indagare l'essere significherà indagare l'esserci. Invece, secondo appunto Marcel, l'indagine non è un qualcosa di distinto, non è un'indagine netta, non è un'indagine chiara perché l'oggetto indagato non è distinto dal soggetto che indaga. Soggetto indagante e oggetto indagato rientrano nella sfera dell'essere e dunque tale mistero può essere risolto non come un problema, non come si risolve un problema dove c'è un soggetto che risolve un oggetto, c'è un soggetto e un oggetto, un soggetto è colui che risolve il problema, il problema è invece l'oggetto che risolve il soggetto, c'è una distinzione tra un soggetto risolvente il problema e un oggetto che deve essere risolto, cioè il problema stesso. No, dice Marcel, non siamo in una dimensione di questo tipo dove c'è una divisione tra soggetto e oggetto, siamo invece in una dimensione in cui il soggetto e l'oggetto vengono a lambirsi, vengono a toccarsi, vengono a coincidere nella dimensione addirittura dell'essere e dunque è affrontabile il tema dell'essere soltanto a partire da un'apertura di tipo trascendente, attraverso una trascendenza, attraverso una prospettiva spirituale. E alla distinzione che Marcel fa tra il problema e il mistero fa riscontro anche una distinzione tra avere ed essere. Che cos'è l'avere e che cos'è l'essere, ci dice Marcel. L'avere esprime una condizione di esteriorità, io ho un paio di forbici, io ho un pennarello. Dunque l'avere ha a che fare con una dimensione di esteriorità, con una dimensione chiaramente di oggettivazione, mentre l'essere rinvia sempre ad un'esistenza concretamente vissuta dall'uomo. Ecco perché sarà la filosofia concreta, quella di Marcel, perché l'essere ha a che fare con la concretezza vissuta dall'uomo. Essere e avere, dice, non sono separati, sono sempre uniti in un rapporto dialettico all'intero del corpo. Io ho un corpo e io sono un corpo. Io ho un corpo e la dimensione ho un corpo è di tipo oggettiva, ha a che fare con l'avere. Io sono un corpo ha a che fare con la dimensione soggettiva, ha a che fare con l'essere. Dunque il corpo è una sintesi dialettica in costante divenire, in costante rapporto mobile tra l'essere e l'avere. Il corpo è il punto di incontro tra l'essere e l'avere. Io sono un corpo, io ho un corpo. Dunque bisogna superare la contrapposizione tipicamente cartesiana res cogitans e res estensa. Perché? Perché in cartesio vi è una netta distinzione tra, diciamo, il soggetto, tra il soggetto, tra la parte appunto del pensiero, tra la parte della conoscenza, va bene, e l'oggetto, il corpo, la materialità. Dunque c'è una netta distinzione in cartesio tra un soggetto spirituale e un oggetto materiale. Nella prospettiva di Marcel, invece, la filosofia della concretezza, la filosofia concreta di Marcel, noi siamo contemporaneamente, indissolubilmente, corpo in una dimensione di essere e avere. Siamo corpo e abbiamo un corpo. E dunque bisogna superare una dimensione, chiaramente, di trascendenza, di spiritualità, il netto dualismo cartesiano, soggetto, oggetto, spirito, materia. Noi siamo spirito e materia. Poi la prospettiva di Marcel è quella, vediamo in quest'ultima parte di questa video-lezione, quella della prospettiva di Marcel della trascendenza e quella poi del recupero profondo della spiritualità. Perché? Perché la sfida a cui l'uomo deve rispondere consiste proprio nell'impedire che l'avere abbia il sopravvento sull'essere. Se l'avere ha il sopravvento sull'essere, ecco che il rapporto dialettico essere-avere che si concretizza nel corpo declina nel primato dell'avere sull'essere, di una parte sull'altra. E dunque non è più un rapporto dialettico fertile e fecondo, bensì diventa un rapporto di predominio dell'avere sull'essere. Dunque la grande sfida che ha l'uomo di fronte a sé è quella di impedire che l'avere abbia la meglio sull'essere. Dunque deve cercare di mantenere la sua dimensione dialettica di corpo come unità mobile dialettica in divenire di essere e di avere. Questo pericolo, un pericolo che l'avere abbia il sopravvento sull'essere, può avverarsi quando? Quando noi consideriamo i contenuti della nostra vita concreta, la nostra esistenza concreta, i contenuti sono le idee, i sentimenti, le abitudini, le emozioni, alla stregua di cose. La vita concreta sono le nostre idee, sono le nostre emozioni, sono le nostre abitudini, sono i nostri sentimenti. Questo è il nostro essere concreto, hanno una concretezza le abitudini, i sentimenti, le emozioni, le nostre idee, la nostra conoscenza. Quando noi trattiamo la nostra vita concreta, emozionale, sentimentale, la parte dell'essere del nostro corpo, alla stregua di oggetti, alla stregua di cose oggettive, senza vivificarle continuamente, senza alimentarle di vita, di spiritualità, senza alimentarle con la nostra creatività, ecco che le cose diventano appunto oggettive, ecco che l'essere diventa cosa, ecco che l'essere si tramutina avere, ecco che le emozioni, i sentimenti, le nostre idee diventano cose, processi di reificazione, trasformazione dei sentimenti, delle emozioni, delle idee, delle conoscenze in cose. Quando noi consideriamo la nostra vita, la nostra vita concreta, le nostre abitudini, i sentimenti, le emozioni, alla stregua di un'oggettività quantificabile, catalogabile, la consideriamo la stregua di un insieme di dati, allora ecco che prevarrà l'avere sull'essere. Quando noi consideriamo la nostra esistenza concreta, totalmente in possesso, il dominio della tecnica, della scienza, come una realtà assolutamente quantificabile, dominabile, dunque a tecnica della scienza, ecco che l'avere avrà avuto il predominio sull'essere. Questo è il grande problema. Individuo a Marcel, questo è un tema tipicamente poi anche heideggeriano, il problema del dominio della tecnica. Allora, nel trattare questi autori, è ovvio che ci può anche essere la propensione a liquidarli come degli antimoderni, degli anti-scienza, degli anti-tecnica, dunque degli anti-progressisti. In parte c'è un elemento di verità. Ma non bisogna vedere soltanto questo lato della medaglia, bisogna vedere il lato invece critico, interessante, fertile, la critica che Heidegger e Marseille fanno la tecnica. Se noi pensiamo di ridurre tutto a tecnicismo, se noi pensiamo di ridurre tutto al dominio della tecnica e della scienza, noi trasformiamo il mondo delle emozioni, il mondo dell'essere uomini, il mondo dei sentimenti, il mondo della conoscenza, l'idea della creatività, in un qualcosa di quantificabile, in qualcosa di meccanico. E questo è il grande rischio, dice Marseille, che può avvenire anche nei rapporti sociali. Passaggio bellissimo. Quando noi consideriamo gli altri come delle cose, noi stiamo operando una quantificazione, un primato dell'avere sull'essere. Dunque il rapporto deve essere un io con un tu, un tu con un io. Invece il rapporto nell'epoca di una tecnica che tutto divora, di una scienza che abbandona la dimensione umana, diventa il rapporto tra uomini, un rapporto tra cose, un rapporto impersonale, un rapporto impersonale. In questi casi dunque l'essere svanisce e c'è il dominio di un avere asettico, c'è il dominio di un avere che diventa un avere oggettivo e quantificabile. Dunque bisogna recuperare il mistero dell'essere. Il mistero dell'essere apre la dimensione spirituale, la dimensione della trascendenza. Il mistero dell'essere, il mistero dei rapporti interpersonali, il mistero dei rapporti umani. E vorrei dire in conclusione che quello che io vado dicendo da sempre per quanto concerne l'educazione, la scuola, è proprio in direzione di Marcel, è proprio in direzione anche dei grandi esistenzialisti. Noi non possiamo ridurre la scuola a un luogo di dominio della tecnica, non possiamo ridurre la scuola ad un luogo in cui prevalgano i numeri, le quantificazioni, le dimensioni oggettive e databili. La scuola ha a che fare con persone, persone sono i docenti, persone sono gli allievi. Ha a che fare con le persone e la scuola deve essere fatta di rapporti umani, di io e tu che si incontrano. La scuola non può essere fatta da problematiche, da risolvere in maniera quantificativa, oggettiva e databile. Non possiamo trasformare la scuola in un luogo dell'avere, ma deve essere un luogo dell'essere. La sfida educativa, i percorsi di formazione devono mettere al centro i rapporti umani, i rapporti dell'essere, i rapporti tra il tu e l'io, il rapporto emozionale. L'educazione è una sfida emozionale, educazione ha a che fare con i sentimenti, con le emozioni, che non vuol dire ovviamente non percorrere la via della scienza. E questo è il grande inganno. La scienza, la scienza non è fredda e oggettiva, la stessa scienza va problematizzata. bisogna umanizzare la scienza, bisogna ridare la dimensione di calore che comunque la scienza può e deve avere, perché è sempre uno strumento nelle mani degli uomini. Gli uomini non sono riducibili a numeri, a quantità. Questo non è possibile. Se noi recuperiamo una critica alla tecnica mossa negli anni trenta da esistenzialisti, da spiritualisti, come appunto Heidegger, come appunto Marcel, come Sars, noi recuperiamo quella critica. In un mondo in cui la tecnica sta dominando, possiamo di fatto inserire dei meccanismi di libertà, dei meccanismi di maggiore emancipazione. Non possiamo trasformarci in appendice della tecnica, in cose tra le cose. Noi dobbiamo mantenerci spiriti umani, emozioni, sentimenti, la nostra vita concreta. Sono le idee, le emozioni, le abitudini, i sentimenti che noi abbiamo e che costruiamo in relazione agli altri. Non possiamo ridurre tutto a un'oggettività quantificabile. Dunque noi siamo un corpo, noi abbiamo un corpo, noi siamo un'esistenza concreta e dobbiamo stare attenti alla tirannia dell'avere, alla tirannia della tecnica, che si propongono sempre come oggettive, come perfette, quantificabili, come neutre, ma in realtà tutto sono tranne che neutre, perché hanno con sé una visione di mondo che tenta a suonare il mondo una mega macchina quantificabile, un mega ingranaggio di cui noi siamo delle piccolissime parti. Noi non siamo le parti di un mega ingranaggio, noi siamo uomini, noi siamo spiriti liberi. Solo la creatività, solo la dimensione emozionale può fare di noi uomini e di noi donne ovviamente un'avventura, un'avventura incredibile. Solo la dimensione di questo tipo profondamente umana può rendere la vita degna di essere profondamente vissuta. Quello che vi ho presentato brevemente è lo spiritualismo esistenzialista di Gabriel Marcel, le cui due opere principali, vi ripeto, sono Essere a vera del 1935 e appunto il mistero dell'essere del 1951. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo autore fuori programma, questa rubrica penso di chiamarla fuori programma, in cui inserirò tutti gli autori che di solito non vengono trattati durante l'anno scolastico. Buona domenica, buon sabato, buona domenica a tutti.